In attesa di presentarlo ufficialmente martedì abbiamo qui il nuovo portiere del Chievo Verona Michael Agazzi. Michael, hai già scelto il numero di maglia? Sono indeciso tra due numeri, il 22 che oltre all'1 è il mio numero storico e il 25 perché è il numero di Mario Morosini quindi devo decidere a breve. Sei qua da poche ore, oggi hai fatto il tuo primo allenamento con i tuoi nuovi compagni hai già delle prime sensazioni da esprimere? Credo che sembrerà una frase fatta ma l'impressione che ho avuto è quella di un gruppo vivo e compatto che questa è una caratteristica indispensabile per cercare di raggiungere il nostro obiettivo dei 40 punti. Dopo alcune settimane che non sei sceso in campo fisicamente come stai, come ti senti? No, io non giocavo non per problemi fisici o altro ma per dei problemi tecnici che avevo col Cagliari, mi sono sempre allenato al massimo per cercare di essere pronto per un'eventuale chiamata che è arrivata. Ti ritrovi qui di fronte a un tuo vecchio compagno Michele Canini, com'è trovarselo di fronte anche qui con una nuova maglia in giall blu per entrambi? Diciamo che con Michele abbiamo fatto tutto il settore giovane dell'Atalanta e abbiamo fatto due anni a Cagliari e quindi è una persona amica e sicuramente quando si conoscono delle persone in un gruppo è più facile ambientarsi anche se come ho visto dal primo giorno non credo che avrò difficoltà. Tu sei giovane, 29 anni, però hai tanti anni che calchi i campi della Serie A, da chi prendevi spunto, chi è il tuo idolo da quando hai iniziato a giocare? Incontrastatamente Cristiano Abbiati perché forse il portiere è meno pubblicizzato del calcio ma anche quello che ha suon di prestazioni e ha suon di partite di altissimo livello è fortissimo. Un'ultima domanda, credi che il Chievo ti possa dare la possibilità di trovare un posto nella nazionale, nel gruppo che farà parte dei mondiali in Brasile? Io penso veramente che qui sono qua per dare il massimo e per cercare di dare il mio contributo alla squadra per, come ho detto prima, raggiungere i nostri 40 punti. Il resto viene di conseguenza ma adesso quello che conta è il bene della squadra e cercare di essere pronti quando ci sarà la situazione giusta. Vuoi fare un saluto ai tuoi nuovi tifosi? Saluto da Maiko Ragazzi, Chievo Verona, forza!